Il sindaco incontra due classi della scuola media Rosso di Sansecondo, il tema è la partecipazione. Sì, io devo dire che da parte dei bambini e dei ragazzi sto ricevendo un segnale fortissimo, un segnale di comprensione di quello che è il messaggio che questa amministrazione ha voluto dare, cioè l'impegno dei cittadini a fianco all'attività dell'amministrazione. Questo è l'ennesimo incontro che faccio. dentro la sala consigliare insieme al Presidente del Consiglio Comunale Leila Montagnino proprio per accogliere i bambini, in questo caso i ragazzi e le ragazze, all'interno del luogo centrale della vita amministrativa della città. I ragazzi sono stati molto partecipi, hanno posto tantissime domande, ma soprattutto hanno voluto dare un contributo all'attività amministrativa. Li sento veramente molto vicini i giovani. A loro ho chiesto quello che chiedo a tutte le scuole, quello di realizzare delle attività, delle assemblee, che portino alla definizione di un obiettivo unico, di una proposta da fare al sindaco, una proposta che viene condivisa da tutti gli alunni della scuola, che può essere un intervento sull'area verde, sul monumento, comunque un'attività che io da sindaco mi impegno a realizzare e che magari, spero, posso affidare direttamente alla scuola, nella custodia e nel mantenimento. In questo trovo ampio consenso. Ho già ricevuto, per esempio, dall'Istituto Tecnico Commerciale, da alcune scuole elementari, già l'invito di ritorno, c'è l'invito in cui mi comunicheranno qual è questa scelta unica. Questo sarà un modo fattivo per partecipare al miglioramento della nostra città. Cosa può fare l'amministrazione di nuovo per i bambini? Può fare qualcosa di straordinario per i bambini, realizzare una città adatta ai bambini, quindi una città in cui si possono realizzare delle piste ciclabili, cosa che faremo a brevissimo nella zona alta della città, quindi la zona di via Pinzelli, come riferimento alla parrocchia San Marco, il giardino della legalità, come quello che è già stato cantierato al quartiere San Luca, la pedonalizzazione con il posizionamento delle rastrelliere qui nell'area pedonale in piazza Garibaldi per consentire a chi vuole venire in bici, in centro, di poterlo fare, il recupero e il miglioramento delle ville comunali, sia la Villa Cordoba che la Villa Medeo, le cui somme sono già state stanziate nel 2014. È soprattutto una città in cui il bambino può sentirsi accolto, protetto, può muoversi liberamente. Molti bambini mi chiedono l'utilizzo del mezzo pubblico e questa è una sensibilità straordinaria, mi chiedono una città più pulita. Allora la percezione del bambino è il modo di capire quali sono gli interventi fondamentali che devono essere fatti, assieme poi gli interventi strutturali che riguardano le possibilità di implementare l'edilizia con la ristrutturazione degli edifici del centro storico, ma quello riguarda degli aspetti che sono conseguenziali all'idea che un bambino può avere della propria città. Ai bambini stamattina ho detto di innamorarsi della nostra città perché soltanto innamorandosi si possono accettare i difetti e si può lavorare per migliorarli.